Si ha proprio un declassamento con la chiusura del punto nascita e con la chiusura dell'urgenza chirurgica del pronto soccorso. Non è stato chiuso nel senso che non è stato buttato giù, ma si chiama centro di primo intervento perché un pronto soccorso, per definirsi tale, deve disporre di tre urgenze. Urgenza pediatrica, urgenza ostetrica, urgenza chirurgica e urgenza medica. A oggi è rimasta solo l'urgenza medica. Torna all'attacco il Comitato Salute Casentino. L'ospedale di Bibiena sta per perdere anche la chirurgia d'urgenza e così i casentinesi sono preoccupati, anche perché dal pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo li divide una viabilità ormai nota a tutti. L'ospedale di Arezzo dista da alcuni siti come Montemignaio e Chiusi della Verna più di un'ora e un quarto di distanza. E noi cercheremo in tutto e per tutto di far applicare una normativa nazionale, il decreto Balduzzi, che prevede che non possano essere soppressi i pronti soccorso se vi sono siti che distano oltre 60 minuti dal pronto soccorso più vicino. Promesse non mantenute, ci dice la Presidente Carlotta Balzani, che annuncia anche una manifestazione in programma il prossimo 7 di aprile. La Saccardi, la De Robertis e i Desideri, dove ci promisero due tavoli tecnici, uno sulla viabilità e uno sulla messa in sicurezza della vallata. Tavoli tecnici che dovevano essere sviluppati entro il 24 febbraio, ma ovviamente non se ne è più saputo parlare di niente. Ci è stato garantito e promesso che ci saremmo rincontrati entro marzo 2017 per convalidare, monitorare i famigerati patti territoriali e quindi siamo qui fiduciosi in attesa di una risposta dal desiderio. Abbiamo appena avviato una seconda petizione, petizione rivolta all'amministrazione del Comune di Prato Vecchio e Stia perché è in previsione la chiusura della cassa di riposo del Paese di Prato Vecchio. Le soluzioni che ora vanno a proliferarsi sono quelle di trasferire gli assistiti in delle cooperative diverse senza curarsi quindi dei dipendenti e del fatto che questa casa di riposo è quella che dà quei servizi alle fasce più svantaggiate. Il 7 aprile vi sarà un grande evento non solo di portata locale né regionale ma europea. È una manifestazione che si svilupperà alla mattina. Il Comitato Salute Casentinese farà un presidio informativo senza ostacolare il servizio ospedaliero davanti all'ospedale di Bibbiena dalle 9 a mezzogiorno e mezzo. Per poi pomeriggio trasferirsi a Firenze in Piazza Duomo alle 16.30 avvieremo un corteo per la difesa della sanità pubblica ed è importantissimo e richiedo, ne approfitto di oggi per informare e invitare tutti a partecipare perché più saremo, più risonanza avremo e più risultati otterremo.